Un buon inizio di giornata da parte mia e della redazione, ben trovati al primo appuntamento dell'informazione del mattino, cominciamo parlando di sanità e del piano operativo sanitario varato dalla struttura commissariale e per gli anni 2023-2025. Il documento traccia una netta inversione di tendenza rispetto al passato, ripristinando alcuni servizi e aumentando i posti letto di 250 unità. Per la prima volta sono previsti anche 40 letti destinati all'autismo, tutti i servizi saranno erogati in regione, comprese la rete Tempo Dipendente. Sentiamo Pasquale Di Bello. È un piano operativo sanitario che traccia una netta inversione di rotta rispetto al passato. La struttura commissariale ha varato per il triennio 2023-2025, un documento che per la prima volta dopo anni di arretramento determina una spinta in avanti e una crescita dell'offerta messa in campo dal sistema sanitario regionale. Il duo Bonamico di Giacomo, per capirci, ha sfoderato un poderoso do di petto laddove gli altri attori in passato avevano steccato o, nell'ipotesi più benevola, solfeggiato in bemolle, ovvero sempre sotto tono rispetto al necessario. Punto cardine della strategia messa in campo è quello dell'autosufficienza del sistema, ovvero nessuna prestazione erogata fuori dal Molise, ma tutte le prestazioni assicurate in regione. In tal senso va l'ampliamento delle prestazioni previste per il Cardarelli di Campobasso, al quale, come ospedale di riferimento, vengono assegnate sulla base di un criterio funzionale le prestazioni tipiche di un DEA di secondo livello. Decisione che di fatto supera il Balduzzi, un esempio per tutti, prevista la terapia intensiva neonatale. Altro elemento di rilievo è quello che riguarda le patologie tempodipendenti. Nessuna prestazione o convenzione fuori regione, ma ricorso ai privati accreditati in Molise, in particolare Neuromed per le malattie neurologiche, e responsible per quello che riguarda le patologie cardiovascolari. Questo laddove non si rinvengano le prestazioni necessarie all'interno del servizio pubblico. In questo quadro di riferimento ho predisposto anche un aumento dei posti letto di 250 unità distribuite tra ospedali e medicina territoriale, previsti per la prima volta 40 posti destinati a pazienti affetti da autismo. Una vera e propria rivoluzione rispetto ad una drammatica emergenza più volte segnalata dalle associazioni di riferimento. La coppia Bonamico di Giacomo ha lavorato al documento sin dai primi giorni dello scorso agosto, operando secondo le indicazioni ricevute dai Ministeri di Economia e Salute e dall'Agenas. Adesso si apre la fase delle osservazioni da parte di attori e parti sociali interessate, fase che si concluderà il prossimo 15 febbraio e alla quale seguirà l'adozione definitiva del documento che, dopo questa prima stesura, dovrà superare il vaglio definitivo dei Ministeri. Bonamico e Di Giacomo, in sinergia con Asrem e Regione, provano a cambiare marcia. Vedremo se questa volta anche da Roma canteranno la stessa canzone o continueranno a cantare in diesis con un mezzo tono sempre più alto rispetto al dovuto. Oggi si celebra il giorno della memoria, lo ha ricordato il Presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante, che nel suo messaggio ha sottolineato che quello che è accaduto nella Seconda Guerra Mondiale, a danno degli ebrei, deve essere un monito eterno per l'uomo di ogni epoca, affinché abbia consapevolezza di quanto l'odio razziale possa corrompere, imbruttire, screditare e barbarizzare la società, anche quelle evolute culturalmente e politicamente, come quelle europee degli anni 30 e 40. Avere memoria della Shoah, ha sottolineato Pallante, rappresenta un impegno per tutte le parti, in causa anche nel conflitto a Gaza, in Ucraina e in ogni luogo dove si combatte, mossi dal fuoco dell'odio, affinché ha concluso con le singole ragioni, comprendano che l'unico modo per costruire un futuro giusto è quello di perseguire la pace. Presentati ad Agnone i punti salienti del dossier che sarà illustrato al Ministero della Cultura il 4 marzo per la investitura e per la corsa verso il rascio finale della Capitale Italiana della Cultura del 2026. Sentiamo Davide Gambardella. Il prossimo 4 marzo il dossier Fuoco Dentro Margine al Centro, che proietta Agnone verso la fase finale per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2026, sarà presentato al Ministero della Cultura ed intanto nel comune Alto Molisano sono stati illustrati i punti salienti del documento. Cinque temi affrontati nel dossier legati alle tradizioni agnonesi, ma anche alle aree interne che devono ripartire dal proprio patrimonio immateriale ed anche dalle tradizioni artigianali e della gastronomia. Un ritorno all'origine per ridare fiducia, speranza a quei 6.000 comuni che costituiscono la dorsale appenninica e io credo che Agnone possa rappresentare degnamente tutte queste comunità, appunto tornare a quella vita lenta, a quella vita profonda che si può vivere benissimo in questi territori. Agnone con il suo fuoco dentro si fa così portavoce di tutti quei territori marginali che rivendicano una ribalta nazionale. Anche nell'ultimo intervento Papa Francesco ha proprio rimesso al centro dell'agenda sociale e quindi anche politica questi territori che vedono lo spopolamento, che vedono la denatalità, che vedono l'invecchiamento. Quindi forse la frenesia degli ultimi 100 anni, dei fenomeni dell'industrializzazione, della globalizzazione deve far tornare a quella umanità vera che c'è ancora in questi territori e noi credo che lo abbiamo fatto bene in questo dossier che la professoressa Bindi ha elaborato insieme a tutto il comitato promotore, a tutta una serie di attori istituzionali. Siamo fiduciosi, diciamo che bisogna credere ai sogni, bisogna accettare le sfide che quotidianamente ci pone la vita in questi territori e quindi noi ce la vogliamo giocare fino alla fine. Speriamo di essere vincitori. Oggi alle 17 a Campobasso sarà ricordata dieci anni dalla sua scomparsa Ada Trombetta. L'incontro è previsto al Circolo Sanitico organizzato dall'Associazione Culturale che porta il nome della professoressa. Si parlerà in particolare del suo libro 1943-1944, fu guerra anche in Molise che fu dato alle stampe esattamente 30 anni fa. Con questa notizia ci fermiamo, diamo però uno sguardo ai giornali online e a quelli che troveremo in edicola con la rassegna stampa. Cominciamo dal giornale del molise.it che apre col piano operativo della sanità, del piano commissariale, Bonamico e Di Giacomo cambiano marcia, riparte la sanità molisana. Poi è molisano il primo paziente a cui è stato somministrato il vaccino anticancro, il governatore Roberti nominato presidente della Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo. Passiamo alle news della Valle. Il presidente Roberti nominato alla guida di Tecnostruttura per il Fondo Sociale Europeo. E poi Campobasso ha pubblicato il bando al sostegno per lo sviluppo sociale locale leader. La nota dell'assessore regionale Micone, vicino a Castel di Sangro, proiettato questa mattina al Cinema Teatro Italia, la seconda via film storico di grande impatto nelle celebrazioni della giornata della memoria. Siamo alla lettura dei principali quotidiani che troveremo in edicola oggi. Cominciamo dalla stampa locale con primo piano e il piano operativo che sparisce, secondo cui sparisce, emodinamica del Veneziale. La bozza del documento porta la firma dei commissari della sanità. La vicinanza al Lab di Campobasso consente di salvaguardare la Golden Hour, salvo il reparto di Termoli. Cambia la rete dell'Ictus, stoppa i viaggi della Speranza. I pazienti molisani li tratta il Neuromed. Nel taglio centrale la notizia che riguarda il vaccino per la cura del cancro. A un molisano la prima dose venuto a Roma, a Napoli anzi, scusate, il medico di base di Carovilli, Alfredo, ha ricevuto il siero sperimentale al Pascale di Napoli. Raggiante l'ongologo ha scerto, è un grande giorno. E poi la giornata della memoria, guerre nel mondo, Roberti, gli errori del passato non hanno insegnato nulla. Andiamo sui quotidiani nazionali, cominciamo dal Corriere della Sera. Corte dell'Aia, avviso a Israele. Eviti il genocidio a Gaza, l'ira di Netanyahu, una delisione vergognosa, bufera sull'Agenzia ONU per i rifugiati, in 12 coinvolti per il 7 ottobre, tensione sui cortei a favore della Palestina. Su questo argomento interviene anche il capo dello Stato, un popolo che ha sofferto, non neghi lo Stato ad altri, riferito chiaramente alla Shoah e al genocidio degli ebrei, che in questo momento stanno combattendo contro i palestinesi il richiamo di Mattarella nel giorno della memoria. Oggi è anche il giorno in cui si celebra, per la verità è avvenuto ieri, lo storico passaggio in finale al primo slam di Yannick Sinner che ha demolito, più battuto Djokovic, Sinner a un passo dal grande sogno, domani contro Medvedev può conquistare il primo slam, parliamo di tennis e di Australian Open, torna la Sinner Mania che aveva contagiato mezza Italia agli ATP Finals di Torino. Andiamo sulla Repubblica, fascismo radice della Shoah, è il titolo di apertura ed è ripreso dal discorso di Mattarella. Il Presidente della Repubblica commemora il giorno della memoria, le leggi razziste del regime furono il capitolo iniziale dello sterminio degli ebrei. Il culto del capo è stato un virus che ha contagiato l'Europa, imbarazzo di Meloni e la russa al Quirinale, Tajani si smarca io estraneo a quella storia, intanto l'ordine dei giornalisti, il governo mette a rischio il diritto all'informazione e il riferimento è proprio agli attacchi fatti dall'entourage di Giorgia Meloni proprio al quotidiano, alla Repubblica diretto da Maurizio Molinari. Intanto l'AIA avverte Israele eviti il genocidio ma non ferma la guerra contro Hamas, le decisioni della Corte Internazionale e giustizia con le tre donne israeliane rapite il 7 ottobre mostrate in un video. Così la prima pagina di Repubblica, andiamo sul fatto quotidiano che mette nel mirino Crosetto, nell'apertura diciamo così di prima pagina centrale, Crosetto Kiev perde, Marrosso alla larga, discorso segreto, Ernest Young dice l'opposto che in pubblico, le frasi incriminate, prevede la sconfitta ucraina, Putin contro i Baltici e la vittoria di Trump, i blitz anti-Uti voluti da Biden ma neutrali e meglio, questa sarebbe la doppia veste del Crosetto in divisa e di quello in borghese. Secondo il quotidiano diretto da Marco Travaglio la Corte Israele ha un mese per evitare il genocidio, le aperture come abbiamo visto delle altre testate, riferimento al discorso di Mattarella, non si neghi lo Stato a un popolo. una apertura che viene ripresa da quasi tutti i quotidiani di questa mattina, anche il messaggero lo fa, il quotidiano romano, Laia e Israele evite il genocidio, il tribunale ONU apre al processo per l'assedio di Gaza ma non ordina a Netanyahu la tregua. Mattarella il 7 ottobre come la Shoah, Maura Tel Aviv dica sì ai due Stati in Palestina e anche il messaggero da largo spazio a Sinner ma poi anche a una vicenda che riguarda la capitale, la fine di un incubo dopo 33 anni in cella, Zuncheddu assolto, revisione in appello a Roma, il testimone chiave era stato imbeccato da un poliziotto e praticamente una vicenda che era accaduta appunto a Roma una trentina di anni orsono. La prima pagina della stampa è sempre sulla Shoah, tra l'altro insomma come dicevamo già in apertura questa mattina si celebra la giornata della memoria, le colpe del fascismo, la corte dell'Aia non impone la tregua, Israele eviti il genocidio a Gaza, Netanyahu è autodifesa, Mattarella chi ha sofferto come gli ebrei non neghi un altro popolo, a un altro popolo uno Stato. E nel centro pagina la vittoria, il momento d'oro di Sinner e il rombo di Duvan con un richiamo a Riva, il toro passa a Cagliari con Zapata e Ricci, uno stadio per Gigi Riva, ormai insomma lo si chiede da più parti ma i Sardi sanno il fatto loro, insomma è nell'aria che il nuovo stadio di Cagliari sarà intitolato proprio al mitico rombo di tuono. Memoria da non perdere, titola l'avvenire, anche qui si parla del discorso di Mattarella, antisemitismo male assoluto, Israele non neghi lo Stato a un popolo, tensioni sui cortei, la corte dell'Aia chiede a Gerusalemme di evitare un genocidio ma intima il cessate, il fuoco vicina la tregua secondo gli osservatori internazionali. E poi la foto che ritrae Mattarella che stringe le mani a Sami Modiano, uno degli ultimi scampati a Birkenau ai campi di sterminio nazisti in vita, a 93 anni, ancora gira l'Italia e non solo per testimoniare il dramma dello sterminio nazifascista. Bigon, il partito democratico, non rinuncia alla libertà di coscienza, il caso della dissidente e il rischio di un autogol della dirigente Dem. Il manifesto a processo è questo il titolo sintesi del quotidiano comunista e sotto processo ovviamente è lo Stato Maggiore di Israele con Netanyahu in testa per via dell'archiviazione respinta. Il genocidio di Gaza è plausibile con una decisione storica. La corte internazionale dell'Aia accoglie la richiesta sudafricana di giudicare Israele che ora deve evitare qualsiasi azione contro i civili palestinesi. Tel Aviv, tribunale antisemita, insomma questo urlo ricorre ogni qualvolta, si pesta il piede a questo signore. Insomma la giurista Meloni, di fatto le misure ordinate implicano un cessate in fuoco. A Gaza intanto si continua a morire di raid e di fame, gli aiuti bloccati dalle proteste israeliane al valico e poi oggi cortei pro palestina vietati nel giorno della memoria ma alcune sigle saranno in piazza. Per Libero invece, e questo di oggi è il giorno della memoria corta, la corte dell'Aia, doppio sfregio dice il quotidiano diretto da Mario Secchi, doppio sfregio alle vittime della Shoah. La corte dell'Aia non archivia le accuse di genocidio contro Israele e Kamas esulta. In Italia palestinesi e centri sociali sfidano lo stop ai cortei pro Gaza in piazza lo stesso, indagine sul coinvolgimento di dipendenti ONU nell'attacco del 7 ottobre. Anche Libero riporta la storica conquista della finale di Sinner per la conquista dell'Australian Open. Sulla prima pagina invece del secolo d'Italia, il sogno africano di Giorgia Meloni. Sentiamo di cosa si tratta. Per Giorgia Meloni l'Africa è più di una priorità e una vocazione. La Premier ha chiesto l'attuazione di un piano per l'Africa in risposta alla crisi del continente, lo scrive Le Monde che ha dedicato un lungo articolo a questa iniziativa. Il quotidiano di Confindustria, il sole 24 ore, titola invece sui BTP e il premio al 7 per mille. Durata allungata a sei anni, aumenta il bonus fedeltà, dopo tre anni cedole più alte. Terza emissione del tesoro dal 26 febbraio al primo marzo, rivolta agli investitori retail. Anche il sole 24 ore riporta la decisione della Corte dell'AIA a prevenire atti di genocidio, Netanyahu, inaccettabile. E poi ancora la crisi di Suez con la Cina che tratta con l'Iran e copre le rotte a rischio. Il primo effetto visibile di quello che sta accadendo nello stretto che mette in correlazione il Mediterraneo, insomma con l'Est, con il Medio Oriente, con l'Estremo Oriente, è il rincaro dei carburanti alle pompe di benzina. Basta guardare le code per capire quello che sta succedendo e quello che potrebbe succedere. E Sei un mito, con il richiamo alla canzone degli 883, Sinner vede lo slam, Sei un mito, appunto, nell'Australian Open. La storica vittoria all'inchino di Djokovic mi ha dominato. Tutto quello che c'è da sapere sulla finale di domani a Melbourne con il russo Medvedev. Nell'anticipo, anzi, il toro scatta in Eurozona. Zapata Ricci, Cagliari KO con l'undici di Gigi Riva sul petto. E Allegri invece va a mille. Se vince fa mille punti in Serie A. La Mia Juve come Yannick all'Inter. Per Malosi si stuzzicano, come sempre, le due squadre nemiche, tra virgolette, da sempre, in attesa di quello che accadrà, insomma, con la Juventus per il momento prima in classifica. Pioli, cuor di Leao, mancano solo i gol di Rafa, il tecnico, un genio, lo amo. E infine, diciamo così, lasciamo questa immagine di Sinner vincente con tutti gli scongiuri del caso e con l'imbocca al lupo per il tennista altoatesino che è impegnato in Australia per la conquista del suo primo grande slam che sarebbe un passaggio, diciamo così, un obiettivo storico perché sarebbe il primo tennista italiano a vincere un torneo di questa portata. E su questa notizia ci fermiamo. Vi diamo appuntamento, come sempre, al nostro Tg, da parte mia e della redazione. Grazie per essere stati questa mattina con noi e vi auguriamo una buona giornata.